Arretorato a Pisa è stata presentata la Notte dei Ricercatori in programma per venerdì prossimo Telecittà Toscane che sono protagoniste Pisa e Capofila. Venerdì prossimo 25 settembre torna la Notte dei Ricercatori in Toscana. In contemporanea con Firenze e Siena Pisa allestisce una giornata in cui mettere in risalto i propri scienziati e studiosi con un ricco calendario di iniziative all'insegna della divulgazione e del divertimento. Un evento ideato dieci anni fa dall'Unione Europea che si svolge in circa 300 città di 24 paesi diversi. Il programma allestito a Pisa inizierà alle ore 16 in Largo Ciro Menotti in stand appositamente allestiti e proseguirà in eventi organizzati in bar e librerie del centro oltre a iniziative alla scuola normale, al CNR e alla scuola Sant'Anna. Perché questa è la festa dei ricercatori e la Toscana e Pisa in particolare sono luoghi di grande vocazione alla ricerca. Storicamente ma anche oggi c'è ricerca di frontiera, ricerca importantissima che avviene in tutte le nostre università, scuole superiori, istituti di ricerca e questo è il momento in cui si cerca di condividere in modo corale tutto questo con il pubblico. A breve partirà l'anno accademico, c'è qualche criticità che l'Ateneo Pisano ancora deve risolvere? Per quanto riguarda studenti? Ma insomma, sappiamo tutti, questa è una grande università, 55 mila studenti, forse qualche difficoltà ci può essere, però questo è il momento della festa in cui vorremmo invitare anche tutti gli studenti a rendersi conto della realtà in cui loro entrano venendo all'Università di Pisa. Grazie.